Liga Bue sale in cattedra mentre c'è grandissima attesa per il concerto di questa sera in piazza della Plebiscito. Il cantautore Emiliano tiene la sua lezione di comunicazione e musica alla Federico II. I linguaggi creativi e musicali contribuiscono alla costruzione sociale delle nostre identità individuali e collettive. Gli artisti sono testimoni privilegiati, interpreti dei linguaggi giovanili che registrano e spesso anticipano i mutamenti sociali. Questo uno dei passaggi del seguitissimo intervento del rocker Luciano Liga Bue nell'aula a Coviello della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo Federico II nel corso del seminario I linguaggi della creatività moderato dal professor Lello Savonardo in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia. L'Osservatorio Giovani, Radio Lab, la radio della Federico II è patrocinato dall'Associazione Italiana di Sociologia. Visto che siamo diciamo all'università, due studenti hanno, due studentesse hanno costruito con le loro mani questo cappello che, diciamo, ti hanno portato qui da regalare. Un seminario dunque seguitissimo, un'occasione imperdibile per gli studenti della Federico II per ascoltare Liga Bue stavolta come relatore su un argomento di estremo interesse. Le canzoni sono straordinariamente importanti per le emozioni perché contribuiscono alla costruzione sociale delle individualità, delle identità individuali e collettive. Noi portiamo nel nostro bagaglio culturale le emozioni che le canzoni narrano, raccontano e quelle di Liga Bue raccontano la vita sociale, personale di Liga Bue, ma nel raccontare se stesso Liga Bue racconta gli individui e la collettività italiana. Viverà stasera, che cosa troverà? Voi lo sapete già, però ve lo confermo, troverà Piazza del Previscito. Nel senso che noi veniamo lì solo luci bianche e solo musica e soltanto voi e Piazza del Previscito. Grazie.